Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandici e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Sesto e Peritola in direzione Firenze, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'astra a segna in direzione mare e code a tratti tra l'astra a segna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze ci sono code in direzione Firenze tra Imprunita, Greve e Inchianti e l'allacciamento a 1 di Firenze Imprunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!